E' stato sgominato in costiera amalfitana grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Amalfi guidati dal comandante Umberto D'Angelo Antonio l'ennesimo tentativo di truffa aggravata ai danni di una vittima anziana. L'episodio è accaduto a minori e riguarda una signora di 84 anni contattata telefonicamente da una persona che si è finta amica del nipote e che con alcuni giri di parole le ha fatto credere che il giovane parente fosse nei guai. Per risolvere il problema l'uomo ha chiesto alla donna dei soldi e si è presentato poi alla porta di casa. Il truffatore è riuscito a farsi consegnare dalla vittima quanto in suo possesso in quel momento ovvero 500 euro ma anche diversi gioielli presenti nell'abitazione per un valore stimato di circa 5000 euro. Poi però si è allontanato su uno scooter che è stato fondamentale per ritrovarlo ed incastrarlo. Il veicolo era infatti già inserito nel database delle forze dell'ordine perché già usato per reati analoghi. Lo scooter non è passato inosservato ad una pattuglia in servizio nel territorio di Maiori che si è messa sulle sue tracce ed è riuscito ad incastrare il truffatore al valico di Chiunzi. Qui i militari della stazione Carabinieri lo attendevano a centro strada. Una volta fermato lo stesso è stato sottoposto a perquisizione ed è stata rinvenuta all'intera refurtiva oltre a due cellulari dedicati alle commissioni dei reati uno dei quali aveva ancora la via della vittima impostata sul navigatore. L'uomo è stato condotto ai domiciliari ma il lieto fine è stato poter restituire all'anziana donna tutti i suoi beni specialmente le fedi nuziali tra cui quella del marito defunto. Grazie a tutti.